il 50 alle marine ne sono, quello dovete spiegare a noi, noi non vogliamo sapere niente altro no 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 perché noi non siamo, noi vediamo 20 all'anno, alle marine ne vedono 2 milioni all'anno ma non basta a noi, voi lo sapete noi al mercato di settimanale e lo sapete, io sono in mezzo a voi, e lo sapete, io sono in mezzo a voi, e lo sapete